ciao a tutti ragazzi sono domix production hd sono qui con una diciamo con una nuova serie che farò su dead racing 2 iniziamo una nuova partita in singolo ci sono due salvataggi perché l'ho provato prima di giocarci giustamente che a dire iniziamo questa nuova serie spero che non vi annoierete che vi divertite insieme a me capcom presentato molto ok qui devo fare un'allora ma devo mortare il più grande possibile e passa in vantaggio oh my god oddio 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 questa va sgommata bam sgommata bam super vantaggio sgommata 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 no amica sgommata internet i compagni da acquistare post il il servizio che abbiamo qui? Signor Chucky Green e Stella di Telo Is Realty Penso che ti considero un avventurato Beh, io credo che in Telo ci sia proprio nulla di grande Intensi O forse non lo usi molto Sì, non lo usi, direi Aspetta Ok Per i miei soldi Chiamiamola Ascensore Chiamiamola Ascensore Ah che vuole la pianta c'è a stare Che succede? Ah Dovevi scrivere tutto Un cretino aperto la porta Siamo nella via ferroviaria E c'è stato un gran casino E tutti si ammazzano E si pensi Già mio comunque Andiamo a questa Faccio da qua Uccidiamo tutto il colpo di titano Non mi prendi, non mi prendi Oddio mi ha preso Oddio Scambia la guitarra Scambia la guitarra E ce la fa Ce la fa, ce la fa, ce la fa, ce la fa Katie, Katie Oddio, hanno deciso Katie Ops, non è Katie Che ti è dentro l'armadio Come una cruce, oddio Ho paura Vabbè perchè Saltiamo il video perchè ne può Non è può Quindi saltiamo No Non mi metto Bella Iruini Che mi è proprio Paura Pau da paura Paura La Non è slalom Slalom Slalam Non, bianco non funziona La non funziona io 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 no papa roma oddio mister muscolo schiuma attiva dimmi che non sta succedendo ancora di sicuro devo fare una cosa perchè forse se ne va a far fuori ho capito se non è il costo sicuro bla 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 tu devi stare attento secondo me sei stato tu blablabla papapumpa ragazzi salto i video perchè mi secco durrebbero moltissimo i video e non finirebbero mai prende lo zombie facciamo una cosa opzioni ok salvataggio la cansa cinesi non voglio parlare con nessuno non è normale mi piace se palle non riesci a un'escezione questo papapumpa 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 papapapap papapap mhm ci ricaventano no ok bravo ok siamo scelte siamo scelte qua ci debba essere un trago mi voglio fare a squadrono che ho visto un po' su youtube che si può fare ci vediamo attraverso l'aposcolo turistico su fortuna se ti dice che adesso è no quella non passa bene un po' cosa c'è te la parlo? chiodi scopa? non mi serve di avere no 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 fate oh trappi zami trappi zami trappi zami come va ci ravi uuu completamente da scatare tutto dove ho tutto dove ho no 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 non mi dico lo scampi oh andiamo via no no mi scusi un po' dimmi cosa vuole ok 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 che cosa vuole vuoi dire cosa vuole non mi sanno non mi interessarizzano bossa video cosa vuole volo e d'inserà no troverò un paio di commercio no 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 scappa la gluce non mi interessa la gluce no voglio entrare qui dentro la gluce non mi interessa la gluce non mi interessa Oh, feel alright Boomba Boomba, yeah, tonight